Oggi il focus sarà legato in primis ai social media, perché questo è un po' quello che è l'obiettivo della giornata, ma cercherò comunque di lanciare alcuni importanti messaggi per quanto riguarda anche la qualità delle relazioni che i nostri ragazzi stanno vivendo. È evidente che qualcosa non va ed è un problema generazionale, quindi bisogna cominciare ad affrontarlo in maniera un po' più concreta. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.